e soprattutto la rinascita, la ricostruzione, la speranza, quindi un lavoratore con un martello dietro si comincia a intavidere la città che viene piano piano costruita e il bambino sulle spalle, come una donna anche con il bambino in braccia quindi le nuove generazioni per costruire un mondo migliore e allociare il mondo, cercando di non ripetere più l'onore della buona